Hola, venerdì 7 ottobre, sto per andare in centro a Bologna, al ristorante, mi sembra si chiama Bartolini, in piazza Malpighi, per chi è di Bologna, a mangiare sulla terrazza il pesce, quindi scusate se sono in bagno, perché sto a stacco dal lavoro e vado direttamente là con le mie conoscenze, quindi siccome vado per una volta finalmente e vedo la città, la mia amata città natale, vi faccio vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, e non solo sagre di paesini minuscoli, prima voglio farvi vedere la città, non credo che andremo in giro, andremo solo a mangiare, però vi faccio vedere perché c'è una terrazza molto bella, a dopo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti E se magna il fritto Guarda che sbomberia Grazie Ah le patate grazie Anche lei Patate? Ah grazie Sono sprecati Buon appetito Laura Beh basta non toccare il piatto Lei non ha preso niente Non ha preso niente Ok Stiamo uscendo Se non casco Se non casco Grazie a tutti Grazie a tutti Va la che va bene Sta tornando E alle 5 e un quarto Sono in casa Sembra una Carcerata Giornata bellissima C'erano 25 gradi Il 7 ottobre Perfetto Spero vi sia piaciuto Non si vedeva un granché sotto Sotto quell'albero La luce era strana Però spero abbiate visto Si mangia da dio Per chi è di Bologna Ed intorni Osteria Bartolini Piazza Malpighi Oh non mi ha impagato La specialità di pesce Buonissima Il dolce Era il Tris di cioccolato Con frutto della passione La morte Era tutto buonissimo Niente Ve lo consiglio Purtroppo Bologna Non abbiamo potuto girare molto Perché gli altri mie compagni Dovevano andare via Andare a casa E un po' l'avete vista Spero vi sia piaciuto Lasciate un commento Un like Iscrivetevi E ci vediamo In un prossimo video A presto Io felice Grazie